Il segretario generale Xi Jinping ha proposto nel rapporto del XX Congresso Nazionale del Partito Comunista Cinese di accelerare l'attuazione della strategia di sviluppo guidata dall'innovazione e di accelerare la realizzazione dell'autosufficienza scientifica e tecnologica di alto livello e dell'automiglioramento. Comao è un'azienda tecnologica impegnata nella fornitura di attrezzature di fascia alta per l'industria automobilistica. Nel mercato cinese Comao ha chiaramente percepito il rapido progresso della scienza e della tecnologia e la rapida trasformazione e sviluppo dell'industria automobilistica. Abbiamo compiuto progressi in una serie di tecnologie fondamentali nell'affrontare problemi chiave. Massima attenzione e cura dei dettagli, costante focus sulla big picture e sugli errori commessi nel passato per progettare un futuro brillante. Mi chiamo Gaetano Cantalupo, sono italiano e sono l'amministratore delegato di Comao China e dell'Asia Pacific. Sono molto felice di lavorare a Songjiang in Shanghai, qui il clima è molto confortevole, l'ambiente è molto buono. Come integratore di sistemi di produzione industriale Comao è in grado di sviluppare soluzioni altamente avanzate in diversi settori dall'automotive alla general industry per clienti dislocati in tutto il mondo. Ho lavorato e vissuto in Cina per più di dieci anni. In questi dieci anni ho prestato molta attenzione al processo di urbanizzazione della Cina e soprattutto allo sviluppo di tecnologie avanzate, di cui la Cina è un pioniere. Negli ultimi dieci anni la Cina ha supportato fortemente gli sviluppi nel settore della New Energy Vehicle. Questo ha creato grandi opportunità e un perfetto environment per le aziende del settore che sono riusciti a portare grandi improvement per i clienti finali. Sono molto attento in tutti gli aspetti dell'economia e della vita cinese, molto correlata con il mio lavoro e la mia vita qui. Il rapido sviluppo economico e l'apertura culturale mi hanno fatto vedere il fascino della saggezza cinese. L'industria dei New Energy Vehicle è un'industria molto importante nello sviluppo del corridoio scientifico G60. È importante osservare e menzionare il coordinamento delle nove principali città lungo il corridoio che stanno dando importanti risultati allo sviluppo del corridoio stesso. Comao è un'azienda leader nei sistemi di automazione globali e nei prodotti di automazione. Sono sicuro che saremo in grado di mantenere il passo con questo nuovo sviluppo di mercato aumentando la ricerca e sviluppo tecnologico e supportando i nostri nuovi clienti in questo business. Nel corso degli anni Comao ha instaurato un ottimo rapporto di comunicazione con il governo e le funzioni competenti a tutti i livelli che sono molto attenti alle esigenze e allo sviluppo della nostra azienda. È importante menzionare che nel 2008 l'azienda ha istituito la party branch. L'esecuzione dei membri del partito nelle risultative posizioni è eccellente. L'interazione tra il partito e le imprese ci ha reso un'ottima relazione nella comunicazione con il governo. Nel nostro settore ci siamo sempre adoperati a fornire un servizio di eccellenza. Abbiamo lanciato il concetto di localized manufacturing in China offrendo servizi in tutto il mondo. Il progresso scientifico e tecnologico della Cina e questa atmosfera di automiglioramento e autosufficienza sono una sorta di aiuto e promozione per noi.